Buonasera dentro la notizia, questa sera si occupa di politica, sono tanti i movimenti dal basso che si sono avvicinati alla politica attiva, il movimento per una diamante migliore è una realtà che ormai è già da più di un anno sul territorio, parleremo con il presidente e portavoce Antonio Cauderuccio, buonasera, delle varie questioni che stanno un po' animando Diamante in questo periodo e partiamo dal fatto che Diamante non è fra i comuni che andranno al voto nella prossima primavera un po' ce lo aspettavamo, però voi già state lavorando per il futuro. Prima di addentrarci nella discussione, nel nostro servizio del 27 marzo abbiamo riepilogato un po' la vostra proposta delle primarie con il meccanismo, allora lo guardiamo insieme e poi ci addentriamo nella proposta. Il movimento per una diamante migliore è già al lavoro per le prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, tornata che dovrebbe cadere nel 2017 ma che vista l'elezione a deputato dell'attuale sindaco Ernesto Magorno e la questione delle incompatibilità potrebbe essere anticipata. Dopo il dietro fronte alla tornata del 2012 i giovani vogliono tentare la strada dell'inclusione già abbozzata l'ultima volta e naufragata a causa di posizioni rivelatisi inconciliabili con gli altri gruppi. Il rinnovamento nel metodo con la proposta delle primarie che escludeva chi già aveva ricoperto la carica di sindaco viene oggi rilanciata e rafforzata. I capisaldi restano l'inclusione di tutte le forze attive politiche e associative e un percorso di confronti sui temi programmatici per favorire la scelta del candidato. Seguendo la dinamica delle primarie la lista sarà composta per almeno la metà da persone che non sono mai state finora in Consiglio Comunale. Possono candidarsi infatti tutti aderendo al progetto primarie di amante libera almeno sei mesi prima della data di svolgimento della tornata amministrativa compresi i consiglieri in carica che dovranno lasciare nello stesso termine la maggioranza e partecipare solo come candidati in lista e non come capolista. Per chi siede in Consiglio sia in maggioranza che in minoranza l'obbligo di costituire un gruppo consigliare che porti il nome del progetto o di aderire al gruppo stesso se già precedentemente costituito. Infine il patto di sostegno. Chi aderisce al progetto si impegna a disconoscere e non sostenere giunte o gruppi consigliari diversi da quelli usciti dalle primarie. Una proposta articolata e anche piuttosto rigida che probabilmente non avrà altro effetto che quello di generare e forse questo l'obiettivo una lista autonoma del movimento. Una sorta di documento di indipendenza, una magna carta del passaggio di testimone generazionale della politica cittadina. Partiamo dal dato politico. A Diamante non si vota perché il sindaco Macorno non ha ancora effettuato la scelta. Positivo per voi perché avete più tempo per lavorare e portare avanti questa proposta e ti faccio un'altra domanda subito. Che tipo di clima si respira intorno alla maggioranza anche dopo le vicende della piazza? C'è una spaccatura oppure gli equilibri sono ancora solidi. Io penso che ci sia comunque una dialettica interna in questo momento all'interno dell'amministrazione comunale. Dialettica interna che è venuta fuori sulla questione piazza dove per stessa ammissione del sindaco ci sono state posizioni divergenti, posizioni diverse. Più che badare al clima noi cerchiamo sempre di farci trovare pronti. Io ho detto in un'intervista qualche giorno fa che di solito in una piccola comunità quando emerge un gruppo di giovani che vuole fare politica la vecchia politica punta sempre a spezzettare magari a tirare di qua e di là quel gruppo di giovani. Il nostro modo di fare invece è quello di proporci e di proporre, quasi di tirare noi stessi per la giacchetta la vecchia politica. Il senso di questa proposta, anche della proposta delle primarie che anticipa un po' il clima elettorale. Ci rendiamo conto che le scadenze elettorali sono legate chiaramente alla posizione del sindaco. Sappiamo che la posizione del sindaco e la carica di sindaco è incompatibile con quella di deputato ma non stiamo chiaramente a precisare, a puntualizzare o a polemizzare con il doppio incarico e con l'incompatibilità del sindaco. Quello che ci interessa è fare una proposta politica, avviare un percorso e credo che quella delle primarie sia quantomeno una rivoluzione di metodo. Ho guardato con interesse al tuo servizio e ipotizzare che questa proposta inneschi alla fine di tutto una lista del movimento è un'ipotesi. In questa proposta, nella proposta delle primarie ci sono tutte le dinamiche che hanno caratterizzato negli ultimi 30 anni la nostra vita politica. Queste dinamiche nella proposta delle primarie sono regolamentate, sono pubbliche, sono trasparenti, non lasciano alibi a nessuno e danno la possibilità senza preclusioni e senza pregiudizia a tutti quelli che vogliono mettersi in discussione di partecipare. È stata giudicata un po' rigida. Noi più avanti sentiremo un altro servizio con le varie reazioni il giorno successivo a quello appena mandato a supporto della nostra chiacchierata. È stata giudicata un po' troppo rigida. Forse perché non si accetta che vengano tra virgolette imposte delle regole, come dicevi tu, dai giovani che dovrebbero in qualche modo stare un po' più ad aspettare che lo spazio gli venga offerto e proposto o perché effettivamente c'è un che di rigidità e torno alla domanda che era implicita anche un po' nella tua risposta e forse una volontà per dire noi ci abbiamo provato, siccome voi non ci state, adesso abbiamo tutto il diritto di andare da soli e di non farci tirare poi da nessuno. Ma guarda, noi veniamo dall'esperienza delle passate elezioni amministrative a cui non abbiamo partecipato per scelta nostra, a cui non partecipammo nelle ultime settimane e decidemmo di non partecipare perché c'erano tre liste in campo. Ci sembrava quantomeno confusionario mettere in campo una quarta lista perché penso e pensiamo che in una comunità di 5.000 abitanti in cui c'è un corpo elettorale di 3.500-4.000 elettori schierare quattro liste sia quantomeno inopportuno. Veniamo da quell'esperienza in cui fumo definiti da qualcuno quasi dei talebani, passò la notizia falsa che noi volessimo partecipare soltanto con una nostra lista, cosa che poi non si è rivelata vera e che eravamo noi quelli che volevano spezzettare l'alternativa all'amministrazione, cosa che poi si è rivelata poco fondata perché noi alle elezioni non abbiamo partecipato ma c'erano comunque tre liste in campo atteso che poi la lista del volo è stata esclusa. Regolamento rigido, io penso che più che altro sia come hai detto tu, probabilmente noi abbiamo proposto delle regole ad una politica che alle regole non è mai stata abituata, qui è tutto regolamentato. Faccio un esempio che mi piace, un consigliere anche di maggioranza dell'attuale amministrazione che volesse partecipare alle primarie può farlo, però ci sono dei tempi non si partecipa alle primarie, non si sale su un altro carro il giorno prima delle elezioni qui ci sono dei tempi, entro sei mesi prima dalla data di svolgimento delle primarie e mi piace anche il fatto ribadire che se si appartiene all'attuale maggioranza non si può partecipare alle primarie con il ruolo di capolista perché le primarie servono a creare un'alternativa all'attuale amministrazione. Queste sono buone regole della politica, buone norme che altrove sono ormai consolidate e che probabilmente nel nostro contesto, contesto politico diamantese che io ritengo particolare anche sul nostro territorio, probabilmente si fa fatica ad accettare. Filosofia contro matematica mi verrebbe da dire per fare un titolo, cioè la vostra è una ipotesi che si basa sul modello ragionato con delle regole, invece finora si è ragionato sul discorso di peso politico uguale pacchetto di voti che però forse è caduto anche, se guardiamo un po' indietro da queste ultime elezioni amministrative, alle primarie per le parlamentarie e al dato poi politico che è uscito su Diamante nonostante l'elezione del sindaco. Noi scrivemmo un manifesto civico prima delle passate elezioni e uno dei principi cardine di quel manifesto era le idee senza numeri non vincono, i numeri senza le idee non governano. Quando si vuole costruire un progetto politico diverso che diventi poi un progetto amministrativo diverso, quello che conta sono i presupposti, se lo si costruisce in maniera diversa si amministrerà in maniera diversa, se lo si costruisce secondo le solite logiche, secondo gli accordi a tavolino per cui una lista si costruisce nel chiuso delle segrete stanze non si amministrerà mai in maniera diversa anche se i nomi fossero diversi e fossero nomi nuovi, conta il metodo oltre ai contenuti e conta il metodo oltre alle facce nuove che sono previste perché c'è una percentuale di rinnovamento in queste primarie variabile a seconda della volontà dell'elettore. Queste primarie, questo metodo che noi abbiamo proposto è studiato sia sulla scorta di quello che è successo per le primarie, le chiamo primarie di Renzi, che per le parlamentarie di Grillo e ha guardato inoltre esperienze passate che ci sono state di primarie sul nostro territorio, faccio riferimento per esempio alle primarie che si sono tenute a Praia e a Mare lo scorso anno. Abbiamo fuso tutte queste esperienze per non ripetere gli errori del passato che si sono fatti sia a livello nazionale che a livello locale, non a caso lo stimolo in più che noi diamo alle elettore in queste primarie non è soltanto la possibilità di scegliere il capolista ma di incidere in maniera sostanziale sulla composizione della lista visto che per candidarsi chi si candida al ruolo di capolista deve trascinare con sé una rosa di nomi che va da 4 a 6 a seconda del numero dei partecipanti. È stato un modello che mi hai detto prima di iniziare questa trasmissione che vi hanno già richiesto, gruppi che vi hanno chiesto di spiegarlo, di capire un po' come funziona e effettivamente io voglio chiederti di andare un po' più a fondo perché ci sono anche nella documentazione che avete prodotto dei modelli in base come dicevi tu al numero delle liste eccetera quindi adesso le vedremo volta per volta anche con l'aiuto della nostra regia spiegarci proprio il meccanismo e poi andiamo anche sulle reazioni perché su quelle poi analizziamo anche le ipotesi politiche e le reazioni dei politici. Io nel frattempo vorrei simbolicamente consegnartene una copia a te e a tutta la redazione di Rete3 questo è un lavoro che stiamo facendo in questi giorni, stiamo ulteriormente, tu sai benissimo che già su Facebook e sulla carta stampata la proposta è stata ben esposta, stiamo facendo di più stiamo consegnando, è cominciata la consegna delle proposte, della proposta in formato cartaceo a tutte le forze politiche e i cittadini che sono interessati o che fossero interessati alla nostra proposta la grande novità è che accanto alla proposta, al testo abbiamo aggiunto dei modelli di simulazione questi modelli di simulazione comprendono tre situazioni vediamo la prima anche in grafica perché ce l'abbiamo a favore anche di chi ci ascolta questa è la simulazione a due candidati, il candidato A e il candidato B in una simulazione a due candidati, ogni candidato porta con sé una rosa di sei nomi la novità è chiaramente legata al fatto che la lista, il principio che muove queste simulazioni è che la lista si costruisce attorno al capolista e che la lista deve rispecchiare la natura politica, sociale ed anche anagrafica del capolista, per cui il capolista A che vince le primarie porta con sé cinque dei sei nomi e va ad indicare uno dei tre nomi che il candidato B porta con sé il sesto candidato, lo sceglie il vincente delle primarie, lo va a scegliere dalla rosa di nomi indicata dal capolista B, il candidato B, e qui questo è un principio che accompagnerà tutte le simulazioni, il candidato B salvo rinuncia è candidato automaticamente in lista perché se noi guardiamo a quello che è successo a livello nazionale, in cui Renzi legittimamente non si è candidato, ha quasi abbandonato la campagna elettorale del PD dopo la sconfitta a mio parere questa cosa ha pesato tantissimo sulla sconfitta perché c'è stata una fetta di elettorato che si è sentita abbandonata dopo le primarie, noi abbiamo apportato una correzione quando si fanno delle primarie, ogni candidato... Se si accetta di partecipare si accetta di stare dietro a quello che ti ha battuto Non solo, non solo, ci sono anche delle logiche chiaramente elettorali, c'è un candidato che porta con sé un certo seguito elettorale, se quel candidato viene meno, quando poi si forma lo schieramento che partecipa alle elezioni vere e proprie, c'è una fetta di elettorato che è quantomeno indecisa e quindi può... Anche qua poi si va al discorso del conteggio forse, cioè si tiene conto anche della forza elettorale dell'ipotetico candidato B, atteso che deve essere un nome nuovo e che quindi magari non ha un pacchetto di voti precedentemente costituito. Assolutamente, assolutamente. E poi la matematica serve. Certamente, poiché il senso delle primarie è anche un senso unificante, la volontà è quella di impedire che ci siano comunque dispersioni, abbiamo imposto, tra virgolette, imposto perché accettiamo, controproposte, proposte di modifica a patto che siano ben argomentate e ben motivate è questo. Il decimo candidato viene scelto dal candidato vincitore A che lo può scegliere all'interno della sua rosa di nomi, all'interno della rosa di B, qui è indicato come il candidato A6 della rosa di A e lo potrebbe scegliere anche all'esterno di queste rose, quindi all'esterno del circuito delle primarie. Poi c'è la simulazione a tre, la simulazione a tre candidati, rose di sei nomi, il candidato A vincitore ne porta quattro, B e C sono candidati, il candidato A può andare a scegliere due nomi dalla rosa di B se vince le primarie al primo turno, se raggiunge il 51% dei consensi al primo turno, se il candidato B arriva invece al ballottaggio sarà B a indicare i suoi due nomi, stesso principio per il decimo candidato, il candidato C è automaticamente in lista, il candidato A sceglie un nome dalla rosa del terzo classificato C e sceglie il quinto nome della sua lista all'interno della sua lista, all'interno del circuito delle primarie o anche all'esterno del circuito delle primarie. E così con la rosa a quattro e a cinque liste. Questa cosa chiaramente è anche il modo per trascinare la partecipazione alle primarie perché se partecipano quattro candidati alle primarie saranno coinvolti 20 nomi, 24 nomi in maniera diretta, 24 persone riescono a trascinare una partecipazione maggiore rispetto a quattro persone candidate a capolista, rispetto a quattro nomi. Altro principio che muove... Ti faccio una domanda e ti interrompo, mi devi scusare. C'è bisogno in un paese di 5.000 abitanti, magari sì, ma potrebbe essere utile un discorso così ampio con l'ipotesi di 4, 5, 6 candidati solo alle primarie considerando che magari qualcuno fa una lista al di fuori di questo meccanismo? Potrebbe essere utile... O è troppo dispersivo, troppo ridondante. L'obiettivo è un obiettivo unificante, l'obiettivo è quello di creare un dibattito dopo il quale il risultato sia quello di una lista unitaria, frutto di quel dibattito, figlia di quel dibattito che abbia dato finalmente, e questa è la rivoluzione di metodo, alla gente la possibilità di scegliere da chi o da cosa farsi rappresentare. Perché quei colloqui ristretti, se ci sono stati semiconfermi, insomma come si è svolta la pre-uscita delle primarie? Guarda, più che di colloqui ristretti io parlerei di chiacchierate, nel senso che ci sono comunque dei rapporti con alcune persone, mi viene da pensare per esempio a Pino Savarese e a Pino Pascale che hanno mantenuto sempre un dialogo costante con noi, nella non condivisione e nel contrasto, perché tutti quanti sanno che noi non abbiamo condiviso quello che si è fatto alle passate elezioni amministrative, infatti non ci siamo candidati. Noi siamo stati interpellati, abbiamo interpellato perché ci interessava a far capire che la nostra posizione era sempre la stessa, cioè primarie oppure lista aperta alla società civile. Quello che ha detto il consigliere Trifilio potrebbe essere anche molto interessante per noi, perché noi abbiamo fatto questa proposta, che è la proposta delle primarie, ti lascio immaginare a un tavolo di discussione, anche pubblico, tra tutte le forze politiche a diamante, la nostra posizione. Noi arriviamo al tavolo con una proposta scritta, strutturata e già diffusa pubblicamente, arrivando a quel tavolo, se la nostra proposta viene, tra virgolette, bocciata, anche se c'è da dire che l'architetto Savarese l'ha già avallata abbracciandola in toto, quindi potremmo già partire con il famoso dibattito delle primarie, mi aspetto che chi non condivide la proposta arrivi con un'altra proposta, non con il nome del candidato, come è stato strutturato. Ma può arrivare anche con il nome del candidato, ma il principio delle primarie è quello di mettere in discussione tutti quelli che negli ultimi vent'anni, perché noi non siamo faziosi, non guardiamo l'attuale amministrazione perché sarebbe fazioso, il principio politico è quello di mettere in discussione tutti quelli, e anche noi siamo in discussione, tutti quelli che negli ultimi vent'anni di vita amministrativa hanno avuto delle responsabilità, per cui evitare, bypassare le primarie significa allora avere il coraggio di cambiare per davvero, di proporre figure nuove, di proporre un capolista nuovo che non abbia avuto negli ultimi vent'anni responsabilità amministrative, perché se si propone al movimento, e a questo punto si propone anche a Savarese, un capolista che abbia avuto negli ultimi vent'anni delle responsabilità amministrative ben precise, il movimento chiederebbe perché quel capolista non deve sottoporsi al vaglio e al giudizio delle primarie. Questo è il principio politico che muove la nostra proposta. Vi sentite un po' grillini? Probabilmente sì, ma anche un po' renziani a questo punto. Senti, torniamo alla questione della piazza, perché è un tema che ha alimentato le divisioni, un po' forse in maniera eccessiva, perché poi si poteva andare ad analizzare la questione in maniera molto più semplice e trovare una soluzione molto più ragionata. Ti mostro un altro servizio che sicuramente avrai già seguito, perché so che ci segui, e poi discutiamo anche soprattutto dell'idea che c'è dietro questa riflessione nel servizio. Il dibattito sull'ormai celebre piazza della discordia non distoglie l'attenzione su altri temi fondamentali della vita politica e amministrativa della città di Diamante. Su tutti il porto e la proposta delle primarie avanzata dal movimento per una Diamante migliore. E come ricordato nelle scorse settimane, l'unico che ha accolto con un si deciso l'idea di una pre-consultazione è stato Giuseppe Savarese, già candidato sindaco e consigliere di opposizione. Finalmente i giovani di Diamante ritornano ad essere protagonisti del palcoscenico politico, scrive Savarese. Movimenti e gruppi giovanili si muovono alla ricerca di valori perduti e imitando la chiesa sperano di ritrovare l'essenza di una vera comunione sociale. E nei giovani, prosegue Savarese, che dobbiamo riporre la speranza perché con il loro intervento e con le loro idee possono portare al tanto agognato cambiamento. Più che un plauso dunque è forse già matura l'idea di mettere a disposizione del gruppo dei neofiti della politica l'esperienza maturata in anni di attività. Il concetto di rinnovamento era già stato alla base della formazione della lista sviluppo 2000 nel 1997, quando con Savarese c'erano persone che mai avevano affrontato una competizione elettorale. Primarie ok quindi che siano fondate su concetti, idee proposte con regole certe e uguali per tutti, per far emergere un leader capace di rappresentare l'intera comunità senza utilizzare, scrive Savarese, i sentimenti di odio e invidia per creare una ingiustificabile contrapposizione politica nei cittadini e nelle categorie sociali della nostra comunità. Chiaro riferimento ai temi del porto e della piazza, sul primo è calato un silenzio bipartisan preoccupante, sul secondo invece si stanno consumando confronti e dissenzi interni alla maggioranza e strategie più o meno palesi tra pezzi della stessa e gruppi di opposizione, con la popolazione alla finestra che piuttosto che pretendere risposte continua a dividersi per appartenenze a prioristiche, alimentando le beghe di principio e giustificando la politica a stare ben lontana dalle proprie responsabilità. Il problema forse è questo, la gente si fa trascinare dal cameratismo, anche se è una parola un po' pesante, allora il metodo forse è indirizzato a quello, a dire partecipiamo in maniera ragionata e poi troviamo una soluzione che possa servire a tutti, perché non parlare delle cose o parlarne quando è il momento di parlarne e poi diventare. L'assenza di dibattito politico, ed è questo l'altro significato, il significato ultimo delle primarie, l'assenza di dibattito politico lascia campo libero a odi strumentali, divisioni strumentali, posizioni strumentali. Per noi ieri il passaggio di Savarese è stato un passaggio importantissimo, perché? Il rappresentante di una stagione politica diversa dalla nostra a Diamante è venuto sul nostro terreno, su una nostra proposta che è la proposta delle primarie. Composizioni anche contrastanti, io ricordo le passate elezioni amministrative che le discussioni con Pino Savarese erano molto contrastanti, c'era molto contrasto, però devo ammettere una cosa, che Pino Savarese ha una sola parola. Aveva detto che avrebbe avallato la proposta delle primarie e ha avallato la proposta delle primarie, questo lo disse già alle passate elezioni amministrative. Sulla piazza tu sei bene, tu conosci le nostre proposte, apertura o chiusura che sia c'è bisogno di programmazione, apertura programmata, chiusura programmata, valutando tre criteri, viabilità complessiva del Paese, commercio e tessuto economico, pubblica incolumità. Io ti ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere, il nostro tempo di esposizione è finito, ti auguro buon lavoro perché continuerete a lavorare e cerca anche tu di redimere l'incompatibilità, sei portavoce e presidente, quindi nomina almeno un portavoce. Lo farò nei prossimi giorni, aspetto che si costituisca l'aggiunta per le elezioni del movimento culturale per una diamante migliore. Grazie, grazie a voi per l'attenzione e buona serata. Grazie a voi.